Varato il LAFIS, ossia il nuovo sistema informativo, ovvero Panacea, per la sospirata sburocratizzazione delle 12.000 imprese agricole altoatesine. Quattro anni di lavoro, tanti ne sono serviti per mettere a punto il nuovo sistema informativo agricole forestale denominato LAFIS, autentica banca dati che contiene le informazioni su 12.000 aziende agricole altoatesine che occupano circa 60.000 etteri di terreno. L'Alto Adige è la prima regione italiana e una delle prime a livello europeo a dotarsi di uno strumento così innovativo per il monitoraggio dei dati relativi all'agricoltura, creando così una sorta di filiera informatica sulla catena animale e alimentare. Abbiamo una sburocratizzazione, praticamente abbiamo la fotografia assieme alla ripartizione foreste che hanno fatto le indagini in loco e l'assieme alla ripartizione informatica che ha creato la banca dati alla quale si può accedere adesso senza creare tante carte. Se c'è una domanda su un proprietario di un maso, qualsiasi, di questi 12.000, si accede alla banca dati, ci sono i dati dell'azienda, ci sono i dati anagrafici del proprietario, praticamente una banca dati che sostituisce tutte le carte che finora circolavano. I dati non comprendono le superfici dedicate all'orto frutticoltura che seguiranno in un secondo momento e sono stati rilevati sul territorio dai collaboratori della ripartizione foreste che li hanno catalogati tenendo conto di punti di svantaggio, superficie, tipo di coltivazione, pendenza e dotazione di animali. In questo caso abbiamo cercato di rendere immateriale la comunicazione riguardante tutti i procedimenti che collegano le aziende con l'amministrazione provinciale. Quindi praticamente queste procedure, che sono estremamente complesse, attraverso il supporto informatico vengono sostanzialmente semplificate, sburocratizzate e rese in materiali. Quindi questo consente naturalmente alle aziende di avere un approccio verso un'amministrazione più leggero, più facilitato e sostanzialmente sburocratizzato. Sono stati anche rielaborati i punti di svantaggio dell'agricoltura di montagna e il calcolo viene basato su indicatori come l'altitudine, la pendenza, la divisione degli appezzamenti, la distanza dei centri abitati e l'accessibilità. Grazie, grazie.